Buongiorno, sono Silvia Di Luzio, medico e specialista in cardiologia con master in medicina biointegrata e in cardiologia pediatrica, già senior researcher associate all'Università di Chicago, Northwest University, mental coach, autrice e formatrice. In questo bellissimo convegno ho avuto l'onore di parlare dell'importanza dei fattori di rischio cardiovascolari non convenzionali che solo ultimamente sono stati presi in considerazione anche da società di cardiologia che sono non solo i fattori classici come diabete, ipercolesterolemia, familiarità, fumo e inattività ma sicuramente anche dei fattori ambientali, quindi l'esposoma a 360 gradi comprensivi sia di inquinamento ambientale che di contatti con virus ma soprattutto è anche i disordini mentali, l'ansia, lo stress che sono fattori poco presi in considerazione. In realtà già da diversi anni questi hanno dimostrato di avere un link fisiopatologico molto importante e quindi in questo convegno abbiamo discusso dell'importanza di diagnosi precoci e prevenzione primaria e secondaria anche grazie all'utilizzo di test innovativi come l'S-Drive.